Come mai il polacco Wilimowski è nella storia dei mondiali? Perché è stato il primo giocatore a siglare quattro reti in una gara di Coppa del mondo. Brasile-Polonia 6-5, ottavo di finale di Francia 38. La storia di Wilimowski è però una storia tragica, figlia del suo tempo. Innanzitutto Wilimowski è il cognome del secondo marito di sua madre. Lui e i suoi genitori erano dell'Alta Svesia, nell'antica Prussia ed erano di etnia tedesca. Nel 40 fu inserito nella lista degli abitanti tedeschi della Polonia, divenne poliziotto del Terzo Reich e continuò a giocare a calcio nel campionato tedesco. Questa decisione è alla base della dannazio memoria di Wilimowski che è stato rinnegato dalla Polonia. D'altro canto in questo modo riuscì ad evitare l'arruolamento della Wehrmacht e a ottenere il rilascio della madre da Pils. Grazie a tutti.